cari amici di mille un'avventura eccoci di nuovo a una anteprima di quello che vedremo la prossima settimana e speriamo che questi argomenti che vorrei proporvi interessino tanti iscritti diventiamo sempre più numerosi perciò speriamo davvero di accontentare i vostri gusti prima come sempre andiamo a rivedere che cosa ci ha di cosa ci siamo occupati la settimana che è appena passata e ci siamo ovviamente messi a giocare sviluppando un po' questo battle pass sbloccando skin non interessa praticamente a nessun iscritto questo tipo di gameplay però ogni tanto ci sta non è che si possa tutti i giorni parlare di commodore 64 perché effettivamente è molto impegnativo invece un gameplay come questo che comunque ci ha fatto vedere alcune particolarità di warzone di mz può essere una parentesi che ogni tanto ci sta comunque poche visualizzazioni come potete vedere e dopo di che siamo tornati sulle cose serie siamo tornati a parlare di avventure testuali e di come produrre come creare queste avventure testuali abbiamo pensato prova ascensore questa questa cosa questa questo tutorial come realizzare un ascensore in con inform 7 che ci porti da un piano all'altro di un edificio se ve lo siete persi se non avete idea di cosa sia inform 7 vale la pena dargli un'occhiata magari scocca quella scintilla che vi farà diventare autori di avventure testuali ovviamente siamo arrivati al video più di successo della settimana e non poteva essere che un video sul commodore 64 come gestire la memoria e non sono esperto di questo argomento e ho cercato di farmi un'idea e non è così difficile switchare tra la ram e le varie rom del c64 e siamo andati un po a scoprire come si può fare anche con un piccolo esempio poi siamo passati di nuovo a giocare un altro gameplay questa volta di un'ora fa questa volta è un gameplay che riguarda Kerbal Space Program è un gioco simulativo di esplorazione spaziale molto giocoso comunque che come vedete vi può portare a visitare lo spazio la luna di questo sistema e gli altri pianeti sta per uscire a fine febbraio Kerbal Space Program numero 2 che dovrebbe essere molto più avanzato di questo visto che questa versione risale a 11 anni fa perciò siamo in attesa di una versione ancora più realistica ma sempre con i nostri simpatici alieni verdi infine siamo tornati a vedere come realizzare un terreno esagonale con questi esagoni e abbiamo cercato di creare dei sentieri un po più realistici e di creare un ambiente effettivamente più giocabile la prossima settimana vedremo cosa tenteremo di fare e già abbiamo accennato come a come vorrei realizzare il multiplayer di questo gioco per poi davvero giocare con gli iscritti e infine abbiamo tentato di proporre un'avventura testuale all'intelligenza artificiale chat gpt avete visto come è andata a finire nel video se non avete visto andate a vederlo non ho proposto aladino e le perle di saggezza perché è troppo lungo il testo troppo complicato ho proposto due avventure una abbastanza semplice l'altro un classico e qualche indicazione utile anche se non proprio chat gpt l'intelligenza artificiale ce l'ha fornita e andiamo a vedere finalmente che cosa ci riserva la prossima settimana ecco abbiamo scoperto che questo gioco di carte due list è diventato open source lo trovate su steam free to play ma si trova adesso anche tutto quanto le carte forse anche le animazioni non so questa animazione è sicuramente un video di così di pubblicità del gioco di carte ecco però diciamo che probabilmente quello che hanno reso disponibile sono queste schermate queste carte che vedete e quindi un video sarà dedicato andare a vedere quali assets potremmo usare e convertire in un gioco nostro visto che è tutto open source se rendiamo il nostro gioco open source possiamo usare questa bella grafica senza spendere nulla andremo a vedere quindi di che si tratta poi torneremo ancora sul commodore 64 agpx net qualche settimana fa avrete visto chi è molto appassionato di commodore avrà notato il commento di agpx net che come sempre ci propone cose interessanti andremo a scoprire come estendere il basic del nostro c64 le istruzioni i comandi di base come espanderli con nuovi comandi molto interessanti perché nuovi comandi che ci permettono di comandare direttamente per esempio gli sprite senza bisogno di usare pic poke molto complicati e ringraziamo tantissimo agpx net per questa per questo codice che ci ha fornito poi passeremo ancora le pillole di inform 7 chissà cosa impareremo a fare dopo l'ascensore dopo la gestione dei punteggi dopo tanti tutorial che abbiamo fatto in passato andremo a scoprire qualche altro piccolo trucchetto per creare le nostre avventure testuali passeremo poi e questo è di nuovo un video nostalgia come ne faccio tanti in queste ne ho fatti tanti in queste settimane ho imparato il c++ il c++ partendo dal turbo c++ del 1990 la versione 3 probabilmente quella che mi ricordo di più quindi forse arriva anche qualche anno dopo e andremo a vedere com'era la sua interfaccia proveremo a fare qualche piccolo programmino e ci scontreremo probabilmente con i limiti del dos i limiti di memoria del dos altro video nostalgia e non so quanti di voi negli anni 90 abbiano provato a imparare a programmare dopo il basic del commodore 64 a fare qualcosa per i pc con il turbo c++ della borland torneremo ancora a parlare di unity il nostro terreno è praticamente pronto come avete visto nel video di due giorni fa e ora metteremo le unità lì sopra ne metteremo come ho già accennato una sola e poi sfrutteremo il sistema multiplayer per far incontrare la nostra unità con tante altre unità che altri giocatori cercheranno di comandare all'interno della lobby che si verrà a creare della stanza che si formerà quindi prima di tutto cerchiamo almeno di avere un pupazzetto che si muove sul terreno che abbiamo creato e il multiplayer arriverà e infine visto che abbiamo parlato molto spesso nel passato e i video che hanno quell'argomento sono tra i più visti del canale cercherò di fare un nuovo tutorial su come diventare vtuber cioè invece di presentarsi in video come sto facendo io adesso avere un proprio avatar che però è animato e anche il labiale segue il nostro parlato e si muove sorridendo ridendo facendo smorfie e quindi cercherò di fare un tutorial perché ho notato che ultimamente ci sono tante domande su come mostrare a video questi avatar è strano perché in questi software ci sono tutte le informazioni però evidentemente magari sono in inglese non tutti le capiscono e non è effettivamente immediato per chi inizia a fare qualche video a capire proprio tutto subito quindi abbiamo già visto come creare questi avatar come animarli faremo proprio una cosa molto semplice spiegare come si prende questa roba e si fa comparire nel video o nella diretta che si sta registrando che si sta portando avanti questo è un po' la scaletta della settimana cercheremo di fare tutto questo finora siamo stati fortunati chissà se anche la prossima settimana lo saremo tanta carne al fuoco come dicono spesso gli iscritti e spero che comunque sia tanta carne che vi piace e che vorrete seguire a me non resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione se avete dei suggerimenti su altri argomenti qui sotto nei commenti potete tranquillamente proporli grazie ancora per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti